Novità su raccolta differenziata e isola ecologica a Polistena e il sindaco Michele Tripodi a spiegarli ai cittadini in un'assemblea popolare, svolta nei giorni scorsi, per mettere al corrente degli imminenti cambiamenti che toccheranno la città sul fronte ambientale. L'amministrazione comunale ha infatti stanziato oltre 110.000 euro per realizzare un intervento di ammodernamento dell'attuale centro di raccolta di bito ad isola ecologica. Si tratta di lavori che prevedono la sistemazione dell'area. Nell'ambito di questi lavori saranno anticipate risorse di bilancio in attesa del finanziamento richiesto alla Regione Calabria per un progetto più organico che prevede, insieme all'ammodernamento dell'isola ecologica, anche l'acquisto di mastelli rigidi da distribuire ad ogni famiglia della cittadina. La giunta guidata da Tripodi è determinata a far completare alla città di Polistena un salto in avanti in materia ambientale, afferma il sindaco, sperimentando nuove e più avanzate tecniche nella gestione del ciclo dei rifiuti per incentivare la raccolta differenziata su scala comunale e a crescere i servizi per i cittadini. A questo proposito, l'amministrazione insieme all'associazione Amici per l'Ambiente ha promosso la stampa di opuscoli informativi per rilanciare la raccolta differenziata e la realizzazione dell'eco card del cittadino. Sentiamo a proposito il sindaco. Stiamo cercando di far fare un salto di qualità per quanto riguarda la raccolta differenziata nonostante purtroppo ci siano dei disegni di privatizzazione del ciclo dei rifiuti da parte della Regione Calabria che stiamo contrastando anche perché laddove i servizi funzionano e sono gestiti direttamente dai comuni non vediamo il motivo per dover esternalizzare il servizio con costi anche esorbitanti per gli utenti. Noi infatti stiamo promuovendo una campagna per dare un impulso maggiore alle pratiche le buone pratiche per la raccolta differenziata e tra qualche giorno distribuiremo a tutti i cittadini una card che abbiamo denominato eco card che avrà la funzione di una carta di servizio per l'utente. Con questa carta si potrà accedere all'isola ecologica, c'è un codice a barre che verrà poi impresso anche sui mastelli che verranno distribuiti anche alla popolazione anche se più avanti, mastelli rigidi e quindi noi potremo monitorare anche il funzionamento della raccolta differenziata. Verrà distribuito anche questo opuscolo che abbiamo realizzato nell'ambito di un progetto sostiene la raccolta differenziata che è una sorta di vocabolario che indica come smaltire correttamente i rifiuti e dove, in quale sacchetto, in quale contenitore oppure se portarli direttamente all'isola ecologica comunale per la quale stiamo procedendo ad un investimento di ammodernamento il 6 giugno scadrà il bando di gara, sistemeremo tutta l'area e quindi cercheremo di mettere ordine anche ad una situazione che al momento va migliorata. Per quanto riguarda invece le altre iniziative dell'amministrazione noi nell'Assemblea Popolare di domenica abbiamo pure parlato di viabilità e di parcheggi abbiamo promosso una serie di confronti con i commercianti e con i cittadini proprio per capire, visto che stiamo predisponendo il nuovo bando di gara per l'affidamento dei parcheggi, se ci sono delle proposte, delle modifiche da fare eventuale estensione di aree che prima non erano interessate alle strisce blu o eventualmente anche di modificare l'attuale organizzazione quindi siamo disponibili al confronto con la gente è un modo anche innovativo di amministrare la cosa pubblica che per la verità noi abbiamo sempre adottato quando abbiamo dovuto modificare qualcosa nelle abitudini dei cittadini e della gente siamo andati nelle piazze, abbiamo parlato, siamo confrontati, abbiamo discusso ecco questa impostazione non la perdiamo perché riteniamo che sia giusto che i processi collettivi di costruzione della città del futuro vengano condivisi con la gente